Ciao a tutti, sono il GiliMushbun24 e siamo tornati sul mio canale con un nuovo video. Come avrete letto dal titolo oggi ecco a voi i vlog di Santo Stefano e sto facendo un sacco di vlog in questi ultimi giorni, scusate se il vlog di ieri è venuto corto, forse pure quello di oggi sarà abbastanza. E comunque oggi stiamo al bar, io ho già finito di fare colazione e dopo a casa mia verranno di nuovo i nostri nonni e boh perché oggi mio padre è il suono massico dato che si chiama Stefano, vabbè ci vediamo dopo. Per poter volare più vicino al sole in una casa senza le pareti. E com'era? In una casa senza le pareti. Dove hai rispettare? No. In una casa senza le pareti. Non è il tempo a costruire del niente come un fiore fino alle radici. È il mio regalo per te da dissetare e crescere. Ciao. Sono... Già dalla deficiente. No, sono... Sono il Gabbib. E c'era appena un signor anziano che mi stava guardando ma bellissima, vabbè. Ora vi canterò Supermarket Flowers di Ed Sheeran. E se non fate un giro sul mio canale, vi ammazzo e fate la fine della nonna di Ed Sheeran in questa canzone. Devo inquadrare il signor che guarda i cantieri. Anna si tirata adesso? Vabbè, che fai? E sta guardando noi ora. Ok, i nonni e zio sono arrivati a casa nostra. Allora, mi piace questa foto. Zio è molto attivo con me. Come fai? E infatti mi prende in giro perché mi sono messa in balcone. Ciao, giannino! Zio si ricorderà di questa parte. Ok, basta. Dopo. Ok, abbiamo appena finito di mangiare. Mi sto allontanando perché di là ci sono loro che parlano. Gaia Nosce, lo sto facendo il vlog! E niente, adesso dobbiamo... Vabbè, adesso loro parlano. Io e Giada e Gaglia usiamo il telefono tanto per cambiare. Giada non mi rubare il tablet. Dicevo. E quindi dopo andiamo a giocare ai giochi da tavola. Quindi non so quanto riuscirò ad inquadrare. Il problema è che si gioca con i soldi. E quindi speriamo di non perdere tanto ma di guadagnare molto. Ah, divertente! Divertente, lo so, perché non ci avvenerà mai questa cosa, eh. Però vabbè. Ma è bellissimo, Gaia. Oh, divertente! E io, guarda. Infatti. Basta. Io ancora... No, stiamo giocando a... Come si chiama? A Kizze. Ok, Google. E io non sono ancora stata eliminata, però mi rimangono solo due possibilità di vincere. E il povero nonno è stato eliminato. Niente, facciamo un altro giro. Pregate per me! No, anch'io. Sono stata eliminata! Che è uscito Giulia! Grazie per non aver pregato per me! Ho perso 30 centesimi! Ora la mia vita è distrutta! Hai visto? Ma che fa? Ah, la mia vita è distrutta! La mia vita è distrutta! Ok, basta. Indovinato un po', ho perso anche la seconda partita! E adesso giochiamo al Tombola. Speriamo che almeno questa volta andrà meglio. Voi stavolta non pregate per me, perché l'altra volta avete pregato per me e è andato malissimo. Io! Io! Tutta la cosa, sono solo 10 centesimi! Ok, adesso. Ho vinto sia Angola... Vanno piatti! E sia... Cos'era l'altro? Eterno! Sì, no! E adesso dobbiamo giocare a mercantinfiare e sicuramente perderò tutto! Ottimo! Ok, allora, i nonni se ne sono andati, anche il zio, e quindi stiamo giocando a mercantinfiare solo noi tre. Cioè, questa è la nostra ricompensa, abbiamo tipo 16 carte ognuno, ma vabbè. E alla fine non è andata tanto male, ho perso tanto kissene, ma almeno a Tombola, ho fatto una cosa decente. Speriamo di vincere qualcosa, almeno di qualche centesimo. E vabbè. Però è successa una cosa troppo divertente, in pratica. Giulia, lei stava dando le carte. In pratica, Giulia, stava leggendo le carte e guardate che ne rimangono 6. E allora, Gero, c'è nel senso, è capitato tutto a me. Quindi tu me la devi vendere, vendimi una carta. Vendimi una carta. Quindi adesso le sta mischiando, lei. Se andiamo avanti così, me ne vendono qualcuna loro. Te la vendo io a un euro. Sì, no, ciao, perdo. Ho vinto un euro che aveva messo Gaia, quanto ho capito. Vabbè, adesso andiamo a sistemare. E io finisco il video qui. Ancora avresti detto così? Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi anche al canale. Sempre con Kiko qui. E noi ci rivediamo domani con un prossimo video. Anche se mi dispiace che stanno già a fine dei vlog, ma però vabbè. Ciao a tutti.